Siamo qui nell'ufficio del direttore del quotidiano La Città Alessandro Misson, direttore innanzitutto si rinnova la partnership tra il Teramo Basket 1960 e il quotidiano La Città, quindi un altro anno insieme. Certamente per noi è una cosa molto bella perché legare il nostro nome a quello di una grande realtà come quella del basket di Teramo che sta risorgendo e va alla grande è una questione proprio di orgoglio cittadino. Mi ha dato tra l'altro un assist perché praticamente quest'anno l'obiettivo del Teramo Basket è dichiarato, è quello dei playoff però la società poi ambisce anche a tornare in palcoscenici importanti, direi che anche per il quotidiano stesso un motivo ancora più di orgoglio perché se dovesse succedere la società ha obiettivi chiari automaticamente anche la città sarebbe lì in palcoscenici importanti. Ce lo auguriamo tutti perché tutti ricordano l'importanza che ha avuto il basket per questa città quando era a livelli gloriosi e tutti ricordano il movimento che c'è stato intorno al basket e adesso con questa nuova società si respira la stessa aria, è una questione di attaccamento ai propri colori e quindi per noi non può che essere un patto di ferro.